Non interverranno novità dell'ultima ora, domani 10 settembre i lavoratori dell'agenzia Forestas aderenti ai sindacati SADIRS e Confederdia si astrerranno dal lavoro. Uno sciopera annunciato il 29 agosto dopo che i sindacati e i lavoratori avevano chiesto all'Aggiunta regionale di dare seguito alle delibere che chiudono l'ITAR di passaggio ai dipendenti di Forestas nell'alveo dei regionali. Vengano avviate le procedure per il superamento del precariato con la stabilizzazione degli stagionali, processo da concludersi entro il 2021. Una prima mobilitazione con conseguente sciopero per il 31 luglio era stata annunciata dai sindacati in piena campagna antincendi, protesta che era rientrata dopo che l'Aggiunta regionale e il Presidente Cristian Solinas avevano varato due delibere, la numero 28.1 e la 28.2 del 26 luglio che davano corso al nuovo assetto dei 5.000 lavoratori di Forestas. Veniva così data applicazione alla norma del 2016 che ha istituito l'agenzia Forestas. Nel mese di agosto i sindacati di categoria hanno atteso in vano che le delibere venissero pubblicate nell'albo operatorio della Regione. Gli assessori degli affari generali Valeria Assata e all'ambiente Gianni Lampis avevano attribuito ritardi al periodo di ferie. Ma al momento, salvo novità last minute, delle delibere non c'è ancora traccia. I dipendenti dell'Agenzia sciopereranno perché vengano pubblicate le delibere e siano avviate senza altri indugi le trattative per il transito del personale di Forestas al ruolo unico regionale e per la definizione del percorso di stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato, avevano scritto i sindacati nell'annunciare lo sciopero, anche paventando il timore che in queste settimane ci siano state delle pressioni alla Giunta per non adottare decisioni che siano favorevoli ai dipendenti di Forestas. Grazie a tutti.